buongiorno manti e cacao oggi andremo a comporre un semplicissimo mojito nella bottigliata in dudazione avremo rum bianco soda succo di lime e scirocco di zucca avremo poi il sacchettino con il ghiaccio e il nostro sacchettino con le guarnizioni per prima cosa andremo a prendere la menta e la massaggeremo dolcemente la porremo poi al fondo del bicchiere prenderemo il nostro contenuto lo agiteremo precedentemente e lo verseremo completamente nel bicchiere una volta versato prenderemo il nostro ghiaccio e lo metteremo nel nostro bicchiere con un cucchiaino andremo ad agitare leggermente così da liberare poi dalla menta gli oli essenziali infine prenderemo le nostre guarnizioni c'è un ciuffo di menta e un appetto di lime ed ecco qua il nostro mojito